Buongiorno ragazzi di seconda A, questa è una video lezione di grammatica. Abbiamo iniziato a studiare il predicato verbale. Iniziamo subito con la correzione degli esercizi di grammatica che avreste dovuto fare per oggi. Mi raccomando quindi, se ancora non avete studiato il parag, pagina 480 il predicato e pagina 482 il predicato verbale, fermate questa video lezione, studia, ascoltate la precedente, studiate 480 e 482, fate gli esercizi e poi dopo passate alla presente video lezione. Bene, pagina 481 numero 3 e numero 4. Del numero 3 avevamo fatto insieme le prime tre frasi, però comunque correggo tutto. Nelle seguenti proposizioni sottolinea il predicato e poi specifica se indica un'azione compiuta dal soggetto, un'azione subita dal soggetto, uno stato, una condizione in cui si trova il soggetto, una qualità del soggetto. Uno, le stelle alpine sono fiori rari, sono fiori rari indica una qualità. Due, franca e arrabbiata con tuo fratello, è una condizione, non una qualità, non è una caratteristica stabile, è una condizione momentanea. Tre, sul fuoco bolle l'acqua per la pasta. Il soggetto di questa frase è l'acqua. L'acqua bolle. Bolle indicano uno stato, non un'azione che compie l'acqua. 4. Questo gattino mi è stato regalato da Susanna. Mi è stato regalato indica un'azione subita dal soggetto gattino. 5. Maria ha pulito tutta la casa con l'aspirapolvere. Ha pulito è un'azione compiuta dal soggetto Maria. 6. Lago della bussola è rivolto verso nord. Il soggetto è lago, è rivolto, il predicato verbale indica uno stato nel quale si trova il soggetto della frase. 7. Dario è geloso del fratellino e geloso indica una condizione nella quale si trova il soggetto, Dario. Bene, esercizio numero 4. Nelle seguenti proposizioni sottolinea in rosso il soggetto, in blu il predicato. Vi ricordo che il soggetto è l'elemento a cui si riferisce il predicato, mentre il predicato è ciò che viene detto del soggetto e sono i due elementi fondamentali della proposizione. 1. Ieri Milena e Silvia sono andate dal parrucchiere. Sono andate il predicato verbale. Il soggetto è Milena e Silvia. 2. Al posto tuo, dalla mamma, è stato sgridato Paolo. Il predicato è stato sgridato. A chi si riferisce? A Paolo, Paolo soggetto. 3. Che cosa ti ha detto Giuseppe riguardo al suo nuovo datore di lavoro? Il predicato è ha detto. L'azione di dire è compiuta da Giuseppe, soggetto della frase. 4. Le mura di quella città sono state edificate con blocchi di pietra. Le mura e il soggetto sono state edificate il predicato verbale. 5. Nel mio lavoro la conoscenza delle lingue è importante. È importante è il predicato nominale. Il soggetto di questo predicato è la conoscenza. 6. Questa notte Dino ha avuto un incubo terrificante. Dino e il soggetto ha avuto il predicato. 7. Sotto il tetto delle case le rondini costruiscono il nido per i loro piccoli. 8. Le rondini soggetto costruiscono predicato verbale. 8. Sulla nave viaggiavano anche i genitori di Sergio. Viaggiavano predicato verbale e si riferisce a i genitori soggetto. Bene, passiamo adesso alla correzione degli esercizi in riferimento al predicato verbale, cioè a pagina 485, il numero 2 e il numero 3 e il numero 4. Numero 2. Per ciascuna delle seguenti proposizioni indica con una crocetta se il predicato verbale è di forma attiva, passiva o riflessiva. Quindi capite che è stato fondamentale studiare bene e a lungo il verbo prima di poter procedere con l'analisi logica. Chi ti ha spedito quella cartolina? Il soggetto, i sottolineatelo, è chi. Chi è un pronome interrogativo e funge da soggetto in questa frase. Chi soggetto ha spedito predicato verbale, è un verbo attivo. 2. Rocco si lava i denti con molta cura. Rocco soggetto si lava è un verbo riflessivo, ovviamente è un verbo riflessivo apparente, ok? Perché il complemento oggetto è i denti. 3. Il leone è stato ammaestrato dal domatore, il leone soggetto, è stato ammaestrato, predicato verbale ed è passivo. 4. Il papà è partito all'alba. Il papà è soggetto, è partito, è un verbo attivo. C'è il verbo essere perché è un verbo intransitivo e molti, non tutti, molti verbi intransitivi vogliono come ausiliare il verbo essere. 5. Gianni è trattato come un bambino da sua madre. Gianni è il soggetto, è trattato, è un verbo passivo. 6. Il cane da guardia abbaiava furiosamente. Il cane soggetto abbaiava è un verbo attivo. 7. Lo zio si è stabilito a Pisa da un anno. Lo zio soggetto si è stabilito stabilirsi è un verbo riflessivo. Esercizio numero 3. In alcune delle seguenti proposizioni sono stati commessi errori di concordanza tra predicato verbale e soggetto. Individua gli errori e correggili. 1. Il nonno dove ha messa la giacca? No, dove ha messo la giacca. Vi ricordo che nei tempi composti, quindi formati dall'ausiliare avere oppure essere, più un participio passato. Il participio passato si mette, si concorda nel genere, cioè si mette al maschile o al femminile, solo se l'ausiliare è il verbo essere, non con avere. Il nonno dove ha messo la giacca? 2. Francesco e Diego sono usciti insieme. 3. Marcella ha mangiato? No, ha mangiato perché c'è il verbo avere. Due fette di torta. 4. Chi di noi hanno mentito? No, chi di noi ha? Perché il soggetto non è noi, e chi? Scrivetelo. Nella frase 4 il soggetto e il pronome interrogativo chi. Quindi, ed essi un pronome singolare, quindi il verbo è al singolare. 5. I ragazzi e le ragazze si sono salutate? No, si sono salutati perché l'altra volta con una battuta vi ho detto che per la legge del maschilismo, se il soggetto è composto da un nome maschile e un nome femminile, il verbo si concorda al maschile. 6. I ragazzi e le ragazze si sono salutati con affetto. 6. I fratelli di Maurizio trascorreranno le vacanze in America. Questa frase non aveva errori, era tutta corretta. 7. Rossella e Federico sono stati visti in un bar di Corso Magenta. Anche qua nessun errore, tutta corretta. 8. Carlo, Guido e Graziella è stata convocata, sono stati convocati dal direttore, eccetera. 9. Sara e io abbiamo letti tutti quei libri? No, abbiamo letto perché l'ausiliare è il verbo avere, quindi il participio non si concorda per genere e per numero. Esercizio numero 4. Nelle seguenti proposizioni cerchia in rosso solo i predicati verbali formati da verbi servili e verbi frasiologici. vi avevo detto per oggi di ripassare nel vostro libro anche i paragrafi di pagina 341 i verbi servili e 344 i verbi frasiologici e vi ricordo per oggi avreste dovuto studiare che i verbi servili e i verbi frasiologici formano insieme al verbo che li accompagna un unico predicato verbale. Quindi correggiamo, in questo esercizio dovevate cerchiare il rosso solo i predicati verbali dove c'è un verbo servile oppure un verbo frasiologico. Frase 1. Giorgio mi ha chiesto un favore, qua non ce n'è. 2. Il giardiniere sta annaffiando le piante. Sta annaffiando un predicato verbale con il verbo frasiologico stare seguito da un gerundio. 3. Camilla vorrebbe andare a Parigi con le sue amiche. Vorrebbe andare, cerchiatelo, vorrebbe un verbo servile seguito dall'infinito andare. For vorrebbe andare un unico predicato verbale. 4. Abbiamo tentato di convincere Anna in mille modi. Abbiamo tentato di, tentare di è un tipo di verbo frasiologico. Se avete ripassato pagina 344 avete visto che tentare di, cercare di, provare a sono anche questi verbi frasiologici. Quindi abbiamo tentato di convincere è un unico predicato verbale. 5. Anche Paolo può uscire con noi? Può uscire, può è un verbo servile seguito dall'infinito, forma un unico predicato. 6. Antonio si è sporcato con la cioccolata, non c'è niente. 7. All'improvviso ha cominciato a urlare come un pazzo. Ha cominciato a urlare. Cominciare a è un verbo frasiologico seguito dall'infinito, è un unico predicato. 8. Questa barzelletta mi ha fatto ridere a crepapelle. Fare seguito da un infinito è un verbo frasiologico. Bene, pagina. Adesso proseguiamo lo studio del predicato e lezione importantissima. State orecchie dritte, state attenti perché parliamo del predicato nominale. Benissimo, il predicato verbale è costituito da un verbo con un'azione compiuta, subita, una condizione eccetera. Il predicato nominale invece è formato dal verbo essere più un aggettivo o un nome che indicano una qualità del soggetto. Prendete adesso nel libro pagina 489. A pagina 489 nel primo schema vedete che il predicato si divide in due tipi, predicato verbale e predicato nominale. Bene, il predicato nominale è formato sempre col verbo essere più che si chiama copula. Copula viene dal latino e vuol dire unione, cioè il verbo essere serve a legare un aggettivo o un nome che indicano una qualità del soggetto al soggetto. Vediamo gli esempi di pagina 483. Bruno è ingegnere. Ora, il soggetto di ciò di cui stiamo parlando è Bruno, quindi sopra Bruno scrivete con la matita una S di soggetto. Bruno, soggetto e ingegnere. E ingegnere è un predicato nominale. Da cosa è formato? È formato da E, sopra E scrivete copula copula e dalla parola ingegnere che è un nome. Il nome che accompagna la copula che è accanto al verbo essere si chiama nome del predicato. Scrivetelo sopra la parola ingegnere. Quindi, Bruno, soggetto e ingegnere predicato nominale e copula ingegnere nome del predicato. Adesso vediamo il secondo esempio. Il film è stato interessante. Il film è soggetto, è ciò di cui stiamo parlando. È stato interessante. È stato è il verbo essere, il participio passato del verbo essere. Quindi, sopra è stato scrivete copula. Con la matita sopra è stato scrivete copula. Sopra interessante scrivete nome del predicato. Ma che differenza c'è fra il primo esempio, Bruno è ingegnere, il secondo esempio, il film è stato interessante. Nel primo esempio il predicato nominale era formato dal verbo essere più un nome, ingegnere, un sostantivo. Nel secondo esempio il predicato nominale è formato da un verbo essere, copula, è stato, più un aggettivo. Quindi il predicato nominale può essere formato da un aggettivo, dal verbo essere più un aggettivo oppure un nome. Guardate a questo punto, a pagina 483, leggiamo questi esempi. Bruno è ingegnere e ingegnere forma tutto insieme il predicato nominale che è costituito da due parti, è copula, ingegnere, nome del predicato. Il film è stato interessante. Il film soggetto è stato interessante, predicato nominale, formato da copula, è stato, è interessante, nome del predicato, che è un aggettivo. Quando faremo l'analisi logica ovviamente metteremo di Bruno è ingegnere, metteremo Bruno soggetto e ingegnere PN, predicato nominale. Attenzione, ovviamente il predicato nominale può essere formato da più nomi o più aggettivi. Guardiamo gli esempi sotto. Marta è una cantante e un'attrice. Marta è il soggetto e una cantante e un'attrice è un unico predicato nominale formato dal verbo essere copula più il nome del predicato che è formato da due parole, una cantante e un'attrice. Come potete vedere bene, dalle linee di questo esempio è una cantante e un'attrice formano insieme un unico nome del predicato. Vediamo l'altro esempio. Stefano è bello, simpatico e leale. Il soggetto Stefano è bello, simpatico e leale. Questo predicato nominale è formato dal verbo essere più da tre aggettivi. Ovviamente io posso anche usare altre parti del discorso per formare il predicato nominale. Esempio, questa matita è mia. Questa matita soggetto è mia predicato nominale. Ma ditemi in questo caso il predicato nominale da cosa è formato? Dal verbo essere copula e dalla parola mia. Però mia è è un aggettivo? No. È un nome? No. È un pronome possessivo. Quindi è mia è un predicato nominale formato dal verbo essere più un pronome possessivo. Oppure rubare è male. È male. È male è un predicato nominale. Che dice una qualità del soggetto. Il soggetto è rubare. La qualità che viene detta di questo soggetto è che è male. Quindi è male è predicato nominale. Formato da è copula e la parola male che, come abbiamo studiato, è un avverbio. Terzo esempio. Amare e comprendere. Vuol dire che se tu ami una persona ti metti nei suoi panni e capisci ciò che prova, perché si comporta così, eccetera, no? Amare e comprendere. Amare è il soggetto che è un verbo all'infinito. E comprendere è predicato nominale formato da è copula e da un verbo, da un altro verbo all'infinito. Perché è un predicato nominale. Perché questo predicato dice una qualità del soggetto. Adesso facciamo pagina 486 l'esercizio numero 5. Nelle seguenti proposizioni individua i predicati nominali. Quindi sottolinea in rosso la copula, in blu il nome del predicato. Come vedete questi predicati nominali, in questo esercizio ci sono delle frasi, ognuna delle quali ha un predicato nominale. Allora, svolgete subito ora le prime tre frasi, anzi le prime quattro frasi. Fermate il video, fate le prime quattro frasi e poi lo fate ripartire e vi darò la soluzione. Bene, procediamo con la correzione delle prime quattro frasi. Siamo sempre a pagina 486, esercizio numero 5. Frase numero 1. Quella signora è la professoressa di inglese di mio figlio. Allora, quella signora è il soggetto, signora è il soggetto. Mettiamoci sopra una S di soggetto. È la professoressa, predicato nominale. Dove è, rosso, copula. La professoressa, blu, nome del predicato. Frase 2. Mercurio era il protettore dei viandanti e dei ladri. Mercurio, soggetto, era il protettore, predicato nominale. Come è formato questo predicato nominale? Da era, copula, più il protettore, nome del predicato. Frase 3. Questa pasta asciutta e quattro formaggi è ottima. Pasta asciutta, soggetto, è ottima, predicato nominale, formato da e copula, ottima, nome del predicato. Quattro. Perché tua sorella è triste? Tua sorella, soggetto, è triste, predicato nominale, formato da e copula, triste, nome del predicato. Bene, adesso prendete pagina 484. C'è una tabella verde importantissima, dovete studiarla bene e come vedete è composta da tre frecce. Guardiamo subito le prime due. Ora, l'obiettivo delle prime due frecce è farvi capire che non sempre se trovate il verbo essere in una proposizione quello è un predicato nominale. Il verbo essere è un predicato nominale se è copula e dopo ha solitamente un aggettivo oppure un nome che si chiamano nome del predicato. Ok? Esempio numero 1. Quindi siamo a pagina 484. Leggiamo il primo esempio. Daniele è tornato. Ora ditemi una cosa ragazzi, è tornato. Voce del verbo essere? No, del verbo tornare. Che cos'è tornato? È un passato prossimo, un indicativo passato prossimo. Quindi in questo caso il verbo essere è copula, cioè la prima parte del predicato nominale accompagnata da un aggettivo o da un nome? No. Funge da ausiliare. Serve a formare il passato prossimo del verbo tornare. Infatti il verbo tornare è un verbo come? Transitivo o intransitivo. Vuole il complemento oggetto o no? No, è un verbo intransitivo. Scrivetelo. Dove c'è scritto è tornato. Scrivete accanto intransitivo. E il verbo è, la parola è, è semplicemente l'ausiliare che serve a formare il passato prossimo del verbo tornare. Quindi dove c'è è, cerchiatelo e ci mettete sopra. Ausiliare. Quindi in questa frase Daniele è tornato, è tornato. Sarà predicato nominale o predicato verbale? Predicato verbale. Perché è non è tornato, è copula, seguita da un nome o da un aggettivo. È l'ausiliare che aiuta il verbo tornare a formare il passato prossimo. Il verbo è uno, è il verbo tornare e tornate o passato prossimo. Andiamo al secondo esempio. Giulia è stata assolta. Giulia soggetto è stata assolta. Voce del verbo? assolvere. E che cos'è? È un verbo come? Attivo o passivo? Passivo è un'azione subita, c'è chi la decide per lei. Quindi è stata assolta, è un verbo passivo. E come tutti i verbi passivi, ha bisogno dell'ausiliare essere. Quindi con i verbi intransitivi che vogliono l'ausiliare essere e con la forma passiva dei verbi che si forma col verbo essere abbiamo dei predicati verbali perché il verbo essere non è copula seguita da un nome o da un aggettivo. Quindi dove dice Giulia è stata assolta, accanto è stata assolta, mettete passivo e quindi cerchiate è e ci scrivete accanto a usiliare. Guardiamo adesso nella seconda freccetta verde, vi fa vedere invece quando è fa parte di un predicato nominale, cioè quando ha la funzione di copula, di unione. Daniele è un poeta, predicato nominale, e copula, poeta, nome del predicato. Giulia è pettegola, predicato nominale, e copula, pettegola, nome del predicato. Andiamo adesso a fare un altro esercizio. Prendete il libro a pagina 486, esercizio numero 8, e adesso fate le prime 5 frasi. Pagina 486 numero 8, nelle seguenti proposizioni, sottolinea in rosso i predicati nominali, in blu i predicati verbali. Potete anche mettere pv oppure pn. Fatelo subito, fermate il video e poi fatelo ripartire e ascolterete le correzioni. Bene, proseguiamo quindi con la correzione dell'esercizio 8. Frase 1. A causa delle sue continue lamentele è stato un incubo per i colleghi. Il soggetto di questa frase dov'è? è sottinteso, egli soggetto sottinteso, quindi possiamo aggiungere con la matita tra parentesi egli uguale s.s. chiudo parentesi, egli uguale s.s. cioè soggetto sottinteso. Quindi, a causa delle sue continue lamentele, egli soggetto sottinteso, è stato un incubo. È stato un incubo cos'è? Predicato nominale, formato da è stato, copula, è un incubo nome del predicato. Quindi andava in rosso. Frase 2. Dopo la battaglia i feriti sul campo erano moltissimi. Il soggetto di questa frase è i feriti. Predicato erano moltissimi. Rosso, predicato nominale. Erano, formato da erano, copula, moltissimi in nome del predicato. 3. Attenzione alla frase 3. Queste frasi, la 3 e la 4, mi servono per farvi capire l'ultima parte di pagina 484. La seconda parte dello schema, la terza freccetta verde. Mirko è in continua lotta con se stesso. Bene, il soggetto della frase è Mirko. Ora vi chiedo, questo è, è la copula di un predicato nominale? È seguito dopo da un aggettivo o da un nome? No, non è seguito né da un aggettivo né da un nome. E vi dirò di più, questo è. Cosa significa? Come potrei sostituirlo? Anziché dire è in continua lotta con se stesso, potrei dire vive, si trova in continua lotta con se stesso. Come vedete in questo caso il verbo essere non serve a unire un aggettivo o un nome al soggetto per indicarne una qualità. In questo caso il verbo essere è un verbo autonomo perché vuol dire si trova, vive e allora è un predicato verbale. Nella frase 3 dovete sottolineare solo la parola è in blu perché è un predicato verbale e ci scrivete sopra si uguale uguale si trova. Andiamo alla frase 4. In quel cassetto ci sono due penne stilografiche. Il soggetto della frase qual è? Di cosa parliamo? Cos'è che ci sono? Due penne stilografiche, quindi penne e soggetto. Ci sono? Ci sono è un predicato nominale. Il verbo è è accompagnato da un aggettivo o da un nome? Stiamo indicando una qualità, una caratteristica del soggetto ci sono? No, ci sono come lo potrei sostituire? Anziché dire in quel cassetto ci sono due penne, come potrei dire in quel cassetto si trovano due penne. Quindi quando in una frase abbiamo c'è, ci sono, non dobbiamo mettere che è un predicato nominale, ma è un predicato verbale perché il verbo essere vuol dire si trova, si trovano ed è in questo caso un verbo autonomo, non funge da copula. Infine facciamo la frase 5. Siamo stati lodati da tutti eccetto da Luigi. Siamo stati lodati da tutti. Bene, qual è il soggetto? Siamo stati lodati a chi si riferisce? a noi. Quindi mettiamo tra parentesi noi uguale SS. Noi uguale soggetto sottinteso. Noi soggetto sottinteso siamo stati lodati. In questa frase siamo stati, il verbo essere, forma un predicato nominale? No, perché siamo stati lodati è un verbo come? Di forma passiva. Siamo stati lodati da tutti. Quindi anche in questo caso abbiamo un predicato verbale. Siamo stati lodati a un predicato verbale laddove il verbo essere è l'ausiliare che usiamo per formare il passivo. Bene, per completare leggiamo adesso gli esempi di pagina 484. Terza freccetta verde. Daniele è in classe. Questo è vuol dire si trova, quindi è un predicato verbale. Giulia è nei guai. Giulia si trova nei guai, quindi è un predicato verbale. Questi ragazzi sono di Palermo. Sono di Palermo vuol dire che vivono a Palermo oppure sono originari di Palermo. Quindi è un predicato verbale. Guardate il quarto esempio. Il portafoglio era di Roberto. Era vuol dire apparteneva. Come vedete dopo non ha un nome o un aggettivo, ha un complemento. Ha un complemento. Di chi? Di Roberto. Quindi era vuol dire apparteneva. Allora anche questo è un predicato verbale. L'ultimo esempio. La statua è di marmo. Dopo è c'è un aggettivo, c'è un nome. No, c'è un complemento di qualità, di marmo, di materia, di marmo. Quindi è vuol dire fatta, è costituita. Allora, dove c'è la terza freccetta verde? Grazie. 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 Grazie.